Salve a tutti ragazzi qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua oggi, non su Dokkan, ma siamo qua per aprire un set fuoriclasse di futuri campioni Prima di iniziare a questo video è una collaborazione con Micheas1 TCG Collector, potete trovare il canale YouTube e il profilo Instagram dove avverrà anche un giveaway per uno di questi box Quindi andate a controllare il link in descrizione e anche nel commento pinnato, intanto un grazie mille per questo box Andiamo ad aprirlo intanto, eccoci qua, cambiamo un attimo schermata, si la cam non è il massimo, devo ancora prendere una roba per il telefono Perché con il telefono si vedrebbe molto meglio, però per ora va bene questa, ce la facciamo accettare, sono i primi video che faccio così quindi non sarà la qualità massima possibile Altro piccolo annuncio, venerdì in live sul canale Twitch andiamo ad aprire anche questo, non lo facciamo tutto però passate in live per vedere un set box di evoluzioni etere Sempre in collaborazione con Micheas1 TCG Collector Eccoci qua, andiamo ad aprirlo Intanto ci sono robe veramente fighe, se riesco ad aprirlo più che altro senza rovinarlo Vorrei tenerci un attimino a tenerlo bello messo bene Charizard VMAX è una figata, posso dire solo questo, è veramente una figata All'interno ci sono 10 pacchetti di futuri campioni, poi abbiamo la promo di Charizard, abbiamo tutti gli sleeve eccetera E mi interesserebbe sapere che cos'è esattamente questo, se è solamente tipo... ah no è una guida giocatore, ok Guida giocatore, sì la solita roba sul come si gioca, come si fanno le robe Ah però no c'è il full set, ah sì c'è il full set, ok Allora c'è il full set, chiariamoci un attimino che vorrei tanto pullare questo Charizard Cavolo lo vorrei aprire del tutto però lasciamo perdere, c'è l'artwork tutto dietro che è molto figo Eccoci qua però, il primo pacco, il pacco importante, iniziamo ad aprirlo, vediamo un attimino Eccolo lì, allora abbiamo guida al gioco, sì regolamento di gioco come al solito lo inseriscono sempre Ma vabbè, è abbastanza inutile, se sapete giocare è abbastanza inutile Qua abbiamo i dieci pacchetti, dopo li andiamo ad aprire, prima però vediamo le altre cose interessanti Dieci pacchetti di futuri campioni, ok ci sta, dopo li apriamo, teniamoli qua da parte Ultime cose da vedere ovviamente i divisori per il box, carini, con Charizard di Max sopra Qua abbiamo, ah eccolo qua, la promo di Charizard V, molto figa Trovate ovviamente il prezzo di tutte le carte qua su schermo Mettiamola da parte, teniamola da parte anche quella, ovviamente abbiamo la nostra busta piena di energie Non la stiamo neanche ad aprire sulle solite energie In PU abbiamo ovviamente il codice per il gioco online, l'ultima cifra è nascosta, provate a prenderlo Il primo che lo prende è GG, scrivetemelo sotto nei commenti Infine abbiamo le sleeve con Charizard di Max, anche queste veramente, veramente fighe Detto questo, abbiamo visto tutto il contenuto del pacco Però a noi ci interessa questo, questi dieci pacchetti di futuri campioni, vediamo un pochino Abbiamo visto qual è il primo premio, solo perché alla fine Charizard è un bel Pokémon Iniziamo intanto col primo, Charizard è un bel Pokémon, lo vorrei trovare Però sì, vabbè, sarà super 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 mega raro, lo sappiamo già Allora, iniziamo un attimino, vediamo se c'è Zecco più che altro Dovrebbe essere, sì così, questo è il codice, potete prendere tranquillamente Dovrebbe essere tre... qua c'è un'energia Se no ho... fa che dappato la prima Sì è l'energia, ok, a posto Vediamo un attimino, primo pacchetto di futuri campioni Vediamo cosa andiamo a trovare Intanto Sharpedo, la detta del centro Pokémon Stadio di Tufferfield Pokéball, Carvagna, ok Eccans, Widol Linundi, Galar In più abbiamo Zigzagoon Scrafty Ed era il nostro, il nostro allo Va bene, ok, nulla di che dal primo pacchetto ci sta Dalla regia, visto che questo comunque è il mio primo video che faccio su Carti Vabbè che ce n'è uno di Dragon Ball Super Che ritornerà, ragazzi Devo un attimo ambientarmi meglio a vedere come cacchio farli Ok, questa è la situazione Quindi vediamo un attimino se riesco ad azzeccare di più Codice, questo è il codice, prendetelo Via Allora, era uno, due, tre, davanti Vediamo l'energia Inutile E andiamo Allora, ora guardo anche meglio perché così riesco a vedere Yarrow abbiamo Megaball Absol Roikoi, ok Zigzagoon, nulla di che Widol Purloin, ok Pokéball Uh, attenzione Macho Preverse Carina Eeeeh, il Zygarde Vabbè, nulla di che, nulla di interessante Ma ci va bene comunque Zygarde Ci può stare Andiamo avanti Futuri campioni Pacco numero tre Quando riuscirò ad aprirli bene sarà il massimo Eccoli qua Eccoli qua Andiamo a prendere codice Per voi Addio 1, 2, 3 Non voglio fare casini Energia acqua Fuori dalle scatole Andiamo Kabu Reculta del team Yell Beat Va bene, ok Tropi Trainer Nikit Trabbish Atenna Vabbè Rockruff Non abbiamo nulla di interessante Ora Pozione Abbiamo Roly Koi Reverse Eeeeh Ricerca accademica Ok, Yollo Va bene Nulla di interessante anche questo Sto sperando tanto in un V Sto sperando tanto Anche Soprattutto in Charizard Cioè Attenzione Non li ho fatti vedere più che altro Ma all'interno c'è comunque Cardevoir Bellissimo Non ci interessa niente Dreadnought mi piace abbastanza Devo dire che dalla Dalla gen di Sword and Shield Dreadnought mi piace abbastanza Obstagon è il migliore E il pacchetto mi dice Tanto in Tanto Apriamo questo Vediamo un pochino C'è anche roba Figa interessante In quel modo Però sì Non c'è per forza Oddio Non voglio trovare per forza Charizard Ok Provare roba interessante Comunque Mi va bene Comunque Ok Codice Via Addio 1 2 3 In avanti Energia lotta Fuori dalle scatole Andiamo Abbiamo Bicirotum Di per pozione Sharpedo Widow Swablu Kakuna Pokeball Machop Attenzione Reverse per pozione E l'ultima E l'ultima E l'ultima E l'ultima E l'ultima E l'ultima Yes Dreadnought v max Buongiorno Questo Questo E come Si può Predire la cosa Questo mi va bene Dreadnought v max Ci può stare E uno di quei pokemon Che mi piace Da spada E scusa Bam Dreadnought v max Preso Fatemelo solo mettere In una sleeve Eccolo qua Perfetto Mamma mia Andiamo a non mettere Da parte Quando ci riuscirò Eccolo qui ragazzi Dreadnought v max Preso Appena la cam Vuole decidere di Ok Mettere a fuoco Eccolo qua Si è un po' un casino Con queste carte La devo cambiare Assolutamente La devo cambiare Ma questo è il primo video Ci sta per ora Eccola qua intanto Messa abbastanza bene Forse un po' Si E' un po' Oddio Il centering fa un po' schifo Vabbè Va bene comunque Lo teniamo da parte E devo trovare il posto Dove non rovinarla Più che altro La teniamo qua Sulla tastiera Non scivolare In nessun modo Ecco qua Perfetto Dreadnought v max Che ci saluta da lì Prossimo pacchetto Con gardewa sopra Vediamo un attimino Intanto Se Ci porta lo sculo Anche questo Gardewa v max Ci sta C'è anche lei Non sarebbe Non sarebbe troppo brutto Rockruff Intanto Ciao Ecco qua Codice Prendete Addio 1 2 3 In avanti Abbiamo Energia a fuoco Fuori dalle scatole E andiamo Nuovo pacchetto Bidrill Abbiamo Bidrill Bicirotum Iperpozione Rockruff Pozione Pokeball Carvagna Ekans Reverse pozione Io ho visto qualcosa Ragazzi Io ho visto qualcosa Oh No Era un centiscorcio Normale Allo Vabbè Mi son fatto Vabbè Va bene comunque Ok Ripperotti Questo pacchetto Centiscorcio Ce lo prendiamo lì Prossimo Ancora di Dreadnought Vediamo un attimino Quello ci stava Prima era un Dreadnought No era un Obstagoon Quello che abbiamo aperto Con dentro Dreadnought Vabbè ci può stare Vulpix Salve Ciao Vulpix Fuori dalle scatole Oh Ecco quel codice Fuori dalle scatole 3 in avanti Energia Lotta Fuori dalle scatole E andiamo Victini Partiamo bene Kabu Recrutate il team YELL Vulpix Eccolo qua Rockruff Purloin O come cacchio si chiama Nicknit Sizzlipede O schifo Pokemon Iperpozione Reverse E La nostra Lucario V Buongiorno Lucario V Buongiorno Bellissima che sei Mamma mia Dai per ora sta andando bene 10 pacchetti Abbiamo trovato una Vmax E porca Eva Vuoi entrare Grazie mille Lucario Via Eccolo qua Bellissimo Cazzo Veramente figo Ok Mettiamolo qua Per favore Stai dritto A posto Abbiamo ancora 4 pacchetti da finire Vediamo un attimino Io direi di partire con Obstagoon È quello che ci ha portato più culo Al momento Quindi vediamo un attimino Vediamo se È il pacco buono Ah cavolo mi sono spoilerato Vi è il codice Tra in avanti Addio Energia a fuoco E partiamo Hop Victini Machock Swablu Sizzlipido Schifo Pokemon Weedle Zizzagoon Di Galar Rockroof Abbiamo Oh quante cazzo di pozioni reverse devo trovare Esattamente Ditemelo È la terza credo E l'ultima carta È Uh Mari Buongiorno Mariollo Ci sta Nulla di troppo esagerato Forse dovrebbe valere qualcosa Più che altro Perché è un trainer Però Non lo so Non sto dietro ai prezzi Delle ultime espansioni Sinceramente Quindi non saprei dirlo Massimo avete Avete visto il prezzo Il prezzo Sulla carta Nell'editing Andrò ad inserire i prezzi Quindi Forse può valere qualcosa Ma non credo più di tanto Ok Nuovo pacchetto Non so neanche di chi era Ma va bene comunque Codice Eccolo qua Addio 1 2 3 in avanti E abbiamo Energia elettro Fuori dalle scatole Andiamo Liepard Cibi in scatolo Sospetto Ha detto al centro Pokémon Come allenare i Pokémon Intanto Quella carta là Qui do l'inun Scraggy Rolkoi Nikit Abbiamo Liepard Reverse Sì E Ultima Obstagoon Bellissimo Cacchio Veramente Figo Obstagoon Hollow Molto 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 figo Questo me lo tengo Proprio per come ho detto È un Pokémon Che mi piace un sacco Quindi Stavo dicendo Forse 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 è il mio Pokémon preferito di questa gen Andiamo avanti Salvato No 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 Non uscire Ok Lo teniamo qua Mi va bene comunque Abbiamo Ancora gli ultimi Due pacchetti da aprire Gardeward Lo teniamo per l'ultimo Perché sì Perché sì Lo teniamo per ultimo Andiamo Appena riesco ad aprire Cristo santo Se sono Inapribili sta roba Atenna Ciao Buongiorno Abbiamo Cavolo Perché me lo vado a spoilerare così Vabbè Questo è il codice Uno Due Tre Davanti Abbiamo Energia erba Ho fatto strike Là davanti Ho fatto strike Chip Chip in scatola sospetto Avveleniamo i Pokémon Addetto al centro Pokémon Ma che è Repeat Addetto al centro Pokémon Victini Abbiamo Atenna Ok Cura totale Scraggy Nulla di che Per loin Ok Matchup Reverse Absol Sì che fa veramente schifo Questo tipo di reverse E Ultima carta Altaria Ollo Nulla di che anche questo Va bene Abbiamo l'ultimo pacchetto Ragazzi Io spero che questo video vi stia piacendo Lasciate Tanti like Speriamo in bene Ci vediamo comunque venerdì Eh ragazzi Venerdì in live Alle 21 Sul canale Twitch Per andare ad aprire Quel box Di evoluzione etere C'è dentro quel Rayquaza Veramente Veramente figo Da poter trovare Rip Niente Niente da fare Ho dovuto fare la cavolata Questo è il codice Uno Due Tre Energia buio Andiamo Ok Questo era l'ultimo pacchetto Iniziamo bene con Hop Atrem Bidrill Ekans Carvagna Swablu Pulpix Trabbish Beat Reverse E Ho visto qualcosa Cavolo Andiamo a vedere L'ultima carta Corso la full art Corso la full art Bellino Guardate quanto Madonna Tanto che questi hanno fatto strike da prima Ma non è andata male 10 pacchetti Con anche la cursola Di galar v Full art Mamma mia Ragazzi C'è andata Alla Perfezione Alla Perfezione Mettiamola da parte anche questa Alla davanti abbiamo le altre nostre Sculate Le nostre sculate Ragazzi Si deve sculare anche su pokemon Ecco qua Ciao cursola Eccolo qua Ha un effetto veramente Che non mi riesce a piacere Però è figa comunque Eccola qua ragazzi Queste sono le nostre Quattro sculate Considerando comunque Obstagoon per me è una sculata Mi va bene comunque Abbiamo finito con questo intero box Elite Trainer Set Di Futuri Campioni Ragazzi vi ricordo ancora una volta Di andare a dare un'occhiata Al canale youtube Di Michels1 TCG Collector E ovviamente Andate a controllare anche La pagina instagram Dove è in corso un giveaway Per un box Identico a quello che avete visto oggi Detto questo È stato un piacere La davanti le nostre sculate Spero il video vi sia piaciuto Noi ragazzi Per questo video è tutto È stato un piacere Lasciate un bel like Commentate Ovviamente Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Ragazzi Noi ci vediamo Venerdì sera Alle 21 Sul canale twitch Per andare ad aprire questo Detto questo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti